Ciao a tutti, sono il Sotto e prima che inizio il video vi dico due cosette. Il video che andrete a vedere sarà suddiviso in due parti, una parte giocata con i miei amici e la parte finale conclusa soltanto da me, perché ci sono stati un paio di impreviste, quindi ho dovuto concludere il video senza di loro. E seconda cosa, ragazzi, tra la notte del 30 e l'1 dicembre, il mio caro, amato ExplodeOne è stato bannato da Roblox. E quindi in onore, sono in questa mappa creata da un amico che conosco nel gruppo della community da Venture Forward e ha creato questo piccolo cimitero in suo onore. Explode, non potremo più continuare la fantastica saga di Adventure Forward, non ci sarà più Adventure Forward 3. Quindi ragazzi, se anche voi siete dei fan di Adventure Forward, mettete un mi piace, mettete l'hashtag, hashtag ExplodeOneForever. Grazie, quindi vi lascio al video. Buon Natale comunque a tutti. Ciao a tutti, sono il sotto e benvenuti nel primo video speciale avvento su Roblox con la gang trio di Roblox formata da MattisD34 e Enderbrine. Come potete vedere faremo una mappa hobby a tema Natale, però un po' a tema di un film che uscirà al cinema, che non mi ricordo il nome ma dovrebbe essere Grinch. Intanto voi penso che sappiate la storia del Grinch che vuole rovinare Natale, quindi non mi serve che devo fare un mega dialogo. C'è un piccolo problema, il nostro caro Enderbrine non può parlare su TS che ha avuto un problema di cuffie, quindi toccherà scrivere come quelli del 2009. Dobbiamo trovare la chiave per uscire, ma intanto, da intelligente è qua. Peccato che c'erano delle casse qui. Vabbè, c'erano delle casse, bastava saltarci e si rompevano e c'era dentro la chiave, quindi... Apro la porta? Quindi, si, apriamo la porta. Oh mio Dio. Comunque, si, si, vieni pure. Bravo, anche tu hai capito come funziona. Intanto, attenzione, epico scenario, tanto tempo fa. Intanto, aspettiamo che anche il resto della turma arrivi. Bene, abbassate il volume, ve lo consiglio, raga. Vabbè, intanto dopo, dopo Gian vedrai che sarà particolare. Comunque, ci sei anche tu. Allora, se non sbaglio qua, dobbiamo prendere i 12 regali e portarli sul caro. Quindi dobbiamo rubare i 12 regali e metterli sul caro del Grinch. Ok. Ma come è che raccolgo i regali, scusa? Come i regali? Basta solo toccarli con il corpo. Ok, posto. Si, si. Voi volevate l'hobby, invece sarete qua come degli idioti a prendere i regali. Wow. Nice hobby, best hobby nel 2018. Tu, Gian, Gian, scrivimi in chat quanti regali sei arrivato. Io sei. Ok, ne ho preso un altro. Cinque. Uno. E la madonna, Gian. Gian, wow. Sei... Mi fai commuovere, hai capito finalmente come prendere i regali. Oh, eccolo, 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 è sopra il tetto. Finalmente, anche io ho finito. E Mattia ha superato il maestro a prendere i regali. Ok. Finito. Fatto. Ok, manca solo Gian. Dai, Gian, che altrimenti... Oh, oh, si, si, bravo, bravo, Gian, bravo, bravo. 50 minuti e abbiamo preso bene, ragazzi. Siamo arrivati nella base segreta di Babbo Natale e dobbiamo rovinare Natale e Babbo Natale. Quindi penso che dobbiamo evitare le sorveglianze. Oh, sono già morto. Eh, non bisogna toccare i laser rossi, secondo me. Però ricordatevi, bimbi, abbiamo il doppio salto. Dai. Dai, no. Puta. Oh, è arrivato anche Gian, lì. Dove? Davvero? Sì. No. E lì, sei l'ultimo. No, Gian è ancora il terzo. No, Gian è qua con me. No. Non c'è point. Sei serio? Non mi stai raccontando una balla. No, no. Ah, Gian, come hai fatto? Bene, ragazzi, sono contento. Allora, vediamo cosa ci deve dire il Grinch. Eh, raga, qua ci sono delle... Ci sono tre porte chiuse, bisogna bloccare. Bisogna andare dentro nei condotti d'aria per trovare la pedana. Allora, andiamo. Dobbiamo trovare i bottoni per attivare. Vado di qua. Ok, uno. Trovato, uno. Ok, qua cosa c'è? Tocca i tre... Eh, toccati. Cos'è che vuoi fare? Cos'è che vuoi toccare qua? Tutto cazzo ai bookcase. Non l'ho capita. Guarda, è quello del secondo condotto. Eh, dov'è il bottone? Era qua. Ah, in fondo, in fondo. Fatto. Ok, entro nell'altra porta. Allora, quindi è la porta gialla quella che devo entrare. Ok, e sono entrato nell'altro condotto. C'è tipo un mini... Ma cos'è che stiamo mettendo dentro nei libri? Ok, ho attivato l'altro bottone. Ma cos'è che stiamo mettendo dentro nei libri? Non ho capito. Uh. Ah, tipo... Ovviamente se vogliamo rovinare Natale... Ah, ok. Il nostro obiettivo è la toccare tre librerie. Io li ho toccati tutti e tre e mi ha riportato più avanti. Bene ragazzi. Certo. Pensate un po'. Livello speedrun è le mie preferite. Ok, dobbiamo raggiungere la fine. Senza farsi toccare. Dobbiamo raggiungere il grinch. Però non dobbiamo toccare negli alberi né gli elfi. Nulla. Oggi ci sono anche i pupazzi di neve che lanciano le palle. Ovviamente doppio salto, mi raccomando, Gian. Abbiamo il doppio salto, quindi nessun problema. Dai, 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 dai. Quanto è lungo? Ci sono quasi. Come? C'era la... No, non ci credo. No. C'era un naso di alberi. È arrivato anche Gian. Perfetto. Allora questa volta è stata veloce. Oh. Checkpoint. Vai così. Vai così. Doppio salto. Abbiamo preso il checkpoint. Questi checkpoint sono un po' troppo vicini. Ma meglio, meglio. Dai. No. Morto. Uuuuh. No. Volevo battere. No, devo ricominciare da capo. Come? Ma perché da capo? No. No. Questi maledetti regali mi fanno rimbalzare. Però non sono morto. Fantastico. Checkpoint. Ma perché non mi dà checkpoint? Oddio. 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 Attenzione. Noi non dobbiamo toccare i pacchi. Noi dobbiamo toccare i pacchi. Ho capito. Io sono sulla slitta di Babbo Natale. Davvero. Arrivo anch'io. Checkpoint. Mi ha dato il check. Bella anch'io. A proposito, questo hobby sta diventando difficile perché giorno adesso guidare anche una slitta. Eh, ma non mi fa... ma com'è di seguire, scusa? 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 No. Ok. Oh, mio dico. Oh, cazzo. Oh, mio dico. Oh, mio dico. Oh, mio dico. Oddio. Oddio, mia dico. Oh, mia dico. Oh, mia dico. Ah, aiuto. Aspetta, amassiamoci che lo vogliamo fare... lo voglio partire tutti e tre insieme. Ok, ora possiamo guidare la nave. E lì, sto tornando indietro, guarda. Arrivo, aspetta, aspetta, devo prendere... dove sono gli anelli? Ciao. Bene, ragazzi, siamo arrivati nello stage 11. Ragazzi, è successa una cosa brutta. Questa parte di video che state vedendo adesso, l'ho registrata il giorno dopo. Da quello che ho fatto con i miei amici, perché ci sono stati degli imprevisti, quindi... Per la fine del video non ci saranno e questa cosa mi fa male, tanto perché volevo finirla insieme a loro. Quindi, eravamo arrivati, che abbiamo guidato la... abbiamo guidato la slitta di Baba Natale e siamo arrivati in questo posto... E stiamo scalando un mega albero di Natale. Ok, ragazzi, ci abbiamo fatto, entriamo dentro una porta. Ok. Ok, dobbiamo prendere... dobbiamo prendere i regali da loro ad ogni persona. Ok, tieni. Andiamo, andiamo, andiamo. Costituiamo tutti i regali, perché ovviamente da cattivi non siamo buoni. Questa è la morale della storia. Dai, tieni anche tu. Ok. Da che cosa la facciamo, ragazzi? Dobbiamo salvare i Natale, altrimenti... Perché sta... perché allora stai portando questo video? Per salvare i Natale, ovviamente. Noi, ragazzi, nobili, che cosa... Noi, ragazzi... Siamo... Noi siamo leggende. Quindi... Che figo, mi dicono, ragazzi, è troppo... Allora, è finito, è una leggenda. Dai, ancora gli ultimi tu, eh. Gli ultimi tu, vabbè. Ultimo. Se no, ho dimenticato uno qui. Quindi. Ok, ora... Fatto. Grazie, buon Natale. Bene, ragazzi, allora... Da del sotto è tutto per questa prima puntata della Domenica di Avvento. Nella prossima Domenica di Avvento vedremo cosa vi porterò di bello, ragazzi. Forse vi porterò Minecraft di sicuro perché era il programma da fare per questa Domenica, ma verrà spostato, verrà spostato per la Domenica prossima. Quindi, da del sotto è tutto. È finito... Da del sotto è tutto. Per una prossima puntata... Di Natale, ovviamente. E con il lag che c'è, vi posso salutare. Quindi, mi raccomando, fate i buoni. Ci vediamo nella prossima puntata. Ci sarà anche qualche video... Prima di Natale, quindi... Prima di Natale. Prima della prossima Domenica. Quindi, ragazzi, vi vediamo. Buon Natale a tutti. Ciao. 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 Ciao.